380 dipendenti assunti e 50 consulenti esterni assistono circa 1000 pazienti al giorno e svolgono diverse attività negli ambiti della riabilitazione, dei problemi dell'età evolutiva, della disabilità, dell'autismo e dell'assistenza agli anziani. Sono alcuni dei punti di forza dei centri gestiti della Fondazione Paolo VI presieduta da Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della Diocesi di Pescara Penne. Oggi 13 ottobre dalle 9 alle 17 porte aperte nelle strutture di Pescara Chieti e Penne per far conoscere meglio le loro attività al pubblico che può accedere a consulenze professionali e a visite gratuite. Lei è il Presidente della Fondazione ma si avvale della collaborazione di diverse persone, alcune anche con un ruolo molto importante? Mi avvalgo sicuramente di un Consiglio di amministrazione formato da 4 persone ma ormai da qualche tempo mi avvalevo di una segreteria staff che da questo momento in poi, essendoci stato un cambiamento nello statuto, un comitato di gestione di cui fanno parte le persone della segreteria staff e un regalo che lo ritengo tale, essendo il dottor Armando Mancini venuto a lavorare nella sede di Bolognano come neurologo e internista, ha accettato il mio invito anche lui di far parte del comitato di gestione. Naturalmente tutti i costoro lo fanno gratuitamente essendo dipendenti della fondazione stessa e a più presto sono nell'idea di nominare un direttore generale, credo di alto livello professionale.